La quarta edizione di Art Fashion Dream quest'anno sbarca a Bari, il 15 e 16 giugno dopo il successo delle precedenti edizioni di Matera e Trani. La manifestazione Luxury, diretta dal fotografo di moda Max Arcano ed organizzata da Events Planner Agora, in collaborazione con l'agenzia di moda CL Eventi, prevede shooting fotografici il 15 giugno nel quartiere muracchiano di Bari e il 16 giugno con sfilate di alta moda e spettacolo presso la suggestiva cornice di Villa Romanazzi Carducci. Noti brand italiani, con le loro creazioni originali e all'avanguardia, esalteranno la bellezza femminile, che sarà immortalata da fotografi di eccezione di calibro nazionale. Art Fashion Dream, connubio perfetto tra arte, fotografia e creatività stilistica nell'alta moda. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Scopri di più su www.artfashiondream.com